Bene, avete sentito Ignazio Abbate e come si suol dire uno che sa di che cosa parla e cosa vogliono fare. Ora le male lingue dicono che potrebbe essere anche lui uno dei vice presidenti, dei vice segretari, vicari, che vuol dire che fanno le veci del segretario, vorrebbe dire fare in pratica il segretario regionale, non si sape, però Ignazio Abbate è tenuto molto da conto, sa come lavorare e vabbè, ok. Allora cambiamo argomento e andiamo a queste immagini, purtroppo non siamo stati in grado di fare delle interviste perché quando ci sono tutte queste personalità, sono tutti ambiccicati con gli spingoli e quindi loro vogliono che ci sia un riscontro, ma questo riscontro poi in verità non c'è, il tema era questo, usura, fenomeno, va bene, che cosa è accaduto? Io ho visto che c'era l'elenco di almeno 200, 300, 200 persone che erano invitate a parlare, però per essere, cioè che erano invitate a partecipare, non a parlare, partecipare, però in verità poi alla fine se guardate un po' il parterre sono tutte le personalità, in pratica prefetto, quest'ora il comandante dei carabinieri, comandante della guardia di finanza, magistrati, come si dice, commercialisti, deputati, c'era di Pasquale, la campo, e la gente che doveva essere interessata, dov'era? Ben pochi, ben pochi. Allora qual era il compito nostro? Non c'era praticamente nessuno. Qual era il compito nostro? Il compito nostro sarebbe stato quello di far sapere, di far sapere alle persone, come abbiamo fatto l'altra volta con l'intervista con Di Francesco, le cose che si possono fare quando si parla di usura, e però uno non può far uscire verso di ciato, lo devi sentire tutto, ma non ci possiamo noi sentire tutto il convegno. Se dovessimo seguire ogni incontro, ogni dibattito, dall'inizio alla fine, state sicuri che noi telegiornale ne faremmo una sola cosa a telegiornale. Quindi forse l'errore in queste vicende, io invito Di Francesco a parlarne, è che bisogna fare un angolo stampa prima o a metà, prima del convegno e dire noi dalle 10.30 alle 11 siamo a disposizione della stampa. Se così non fate, come dico io, ve la suonate e ve la cantate, scusate, perché non c'è nessuno che ha sentito quello che è stato detto. Interventi importanti, il prefetto, il questore, ma sono tutti coloro che di queste cose già le sanno tanto, invece il concetto è che bisogna invitare le persone a intervenire, a contattare, chi è avere il coraggio di farlo, chi è che viene contattato per il pizzo, deve dire qualcosa. Queste cose sono importanti, quindi io credo che i convegni vanno bene, ma fatti in questo modo servono a poco. Mi rivolgo al prefetto, mi rivolgo a chi l'ha organizzato, ai commercialisti stesso, perché la cosa più importante, essenziale è che questo che è stato detto deve arrivare alle persone che potrebbero essere vittime, e quindi alle vittime. A chi gliel'abbiamo detto? A nessuno, non possiamo fare neanche le interviste, quindi a questo punto io ho chiamato, ma non c'è nessuno che può fare l'intervista, nessuno. Allora, a questo punto ci dispiace, ma non possiamo seguire questi avvenimenti. Detto questo, andiamo a parlare un attimo del comune di Ragusa. Allora, oggi è venerdì per parlare del comune di Ragusa, abbiamo richiamato in studio Cesare Prucchino. è naturale che con Cesare si fa più critica che altro, perché quella è la mission del programma. Sentiamo Cesare Prucchino.